Io mascherino non puoi tu e mi sbatto una minchia a Conte, a Brusaferro, a Pregliasco e a tutti i guinnoti che su Non hanno la verità in tasca, io credo a Tarro e credono a tanti altri che la pensano come lui A Montanari, quindi, una scassata minchia, un cinema ne è fase 1, ne è fase 2, ne è fase 3 Fenerò tutto così, italiani torniamo a vivere, apriamo i negozi senza barriere, senza niente E non ne facciamo rompere i cazzo questi quattro guinnoti corrotti maledetti, a Big Five e i 5G, un signor Colano che era nella Vodafone Non mi rompete la minchia che faccio succedere, non puoi dire, gli italiani, scendiamo in piazza, italiani Mi pare che aveva fatto franca, che hanno iniziato a fare i negozi, le barriere, un chissano che aveva gente coperta e non vi riesce E però deve mantenere il personale, ma che gioco giocate, merda, merda, figliere bottana No, anzi, annazzero io, ci riprenderemo la libertà e voi dovrete scappare dall'Italia Tutti quelli che ci hanno messo per due mesi ai domiciliari e chi è il loro complice Se ne vai a dire nell'Italia, va a scappare perché tu scassiamo tutto